...dall'altra parte, adesso questa voce, la voce di questa ragazza che si chiama Marta, lo ricordiamo per i amici a casa, che ci farà ascoltare una canzone straordinaria di Fiorella Mannoia, che si intitola Quello che le donne non dicono è meno male, sottotitolo. Prego, a te un applauso! Ci fanno compagnia, certe lettere d'amore, parole che restano con noi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia, è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento, ma noi no, e se ci trasformiamo un po', per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionale, più delicate, ma potrai trovarci ancora qui. Nelle sere tempestose, partaci delle rose, nuove cose, ti diremo ancora un altro sì. E' difficile spiegare, certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui. Con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionale, più emozionale, più emozionale. Brava! Brava! La pelle d'ocalta così! E' veramente andata e veramente... Brava, brava! Brava, brava! L'accapponata! L'accapponata sulla pelle, cioè veloce, l'accapponata! E' proprio, veloce, l'accapponata! E' veramente... Qui siamo perché è il momento del... Eh 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 eh... Dobbiamo scoprire, lo dobbiamo scoprire. Eh, dobbiamo scoprire. Va alle due punti, va alle due punti la prova eh! Il risultato del televoto, chi si è giudicata questa prova? Eh eh... Diamo un po' attenzione, è importante perché questo è il risultato del televoto, quindi il pubblico di Mezzogiorno in Famiglia ha così votato. Tra Ariccia e San Severino Marche nella prova del canto, non ve dubbio, guardate! Vince 73%, 27% San Severino Marche! Brava Marta che ha cantato benissimo, complimenti anche a Beatrice, eh brava! Brava Marta che produce un applauso fortissimo! Ecco il punteggio! Brava brava! Due punti in più! Esatto!